L'assessorato al lavoro si è messo a disposizione per affrontare i problemi della fisiomedica loretana. I lavoratori dell'istituto di riabilitazione di Toro avevano chiesto la convocazione di un tavolo, sollecitando l'intervento delle istituzioni per ottenere il pagamento di stipendi e arretrati contrattuali e garanzie per il futuro. Nessuna pretesa di sostituirci a chi ha la competenza in materia, cioè la struttura commissariale, ha detto l'assessore al lavoro Petra Roia, esprimendo anche apprezzamento per la professionalità dei lavoratori della fisiomedica che non hanno mai fatto pesare sui pazienti ricoverati le difficoltà che stanno attraversando. L'impegno dell'assessorato al lavoro non si ferma all'emergenza stipendi, l'obiettivo è preservare delle strutture che in Molise sono più uniche che rare. Io ricordo che sulla riabilitazione molto spesso i familiari sono costretti ad andare fuori dal Molise perché in Molise non ci sono strutture, con un doppio danno che noi dobbiamo pagare con i soldi del Molise, strutture della Campania, del Lazio, dell'Abruzzo eccetera e i familiari per andare a trovare i propri congiunti devono anche sobbarcarsi un viaggio, stare lì una giornata, sopportare delle spese. Se abbiamo una struttura che è in Molise, che può lavorare bene in Molise, che dà una buona assistenza e che ha anche 66 occupati tra personale medico e infermieristico, non vedo per quale motivo noi non dovremmo valorizzare questa struttura a vantaggio di altri territori. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti dell'assessorato alla sanità e dell'ASREM, oltre alla proprietà della fisiomedica che ha esposto nel dettaglio la situazione economica, dichiarandosi completamente in linea con le richieste dei dipendenti. Da parte sua l'ASREM fa sapere che ieri il direttore ha firmato il provvedimento per sbloccare il pagamento degli arretrati fino al primo bimestre del 2013. I lavoratori. Siamo in parte soddisfatti, in parte ovviamente no. Soddisfatti nel fatto che ci è sembrato di capire che ci sono delle promesse che arriveranno a breve dei soldi per poter far fronte a qualche stipendio. Siamo un po' preoccupati per il futuro, perché per quello che abbiamo potuto capire pare che i budget e le questioni non siano molto migliorate. Entro due settimane si terrà un nuovo tavolo. L'assessorato al lavoro cercherà di stemperare la difficoltà di relazione tra le parti per quanto riguarda il contenzioso che le oppone.